Avvocatessa di successo specializzata in diritti umani, già consulente del segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, ha difeso il premier ucraino Yulia Timoshenko e il fondatore di Wikileaks Julian Assange. Alam Alamuddin, nata a Beirut, ha solo 36 anni ma ha già collezionato una serie di esperienze straordinarie, cui si aggiunge ora il fidanzamento con il 52enne scapolo d'oro di Hollywood George Clooney. Secondo i più ottimisti, questo fidanzamento farà tacere le chiacchiere sulle unioni a tempo determinato dell'attore noto per la sfilza di ex, anche se i più maligni parlano di una nuova operazione di marketing.